GF VIP7, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e un fiume pieno dopo il mancato ingresso nella casa, sono disgustato perché Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha nuovamente attaccato la concorrente del GF VIP7 attraverso i social. Poco fa ha risposto alle domande dei follower su Instagram, sottolineando per l'ennesima volta la malafede della vippona e del padre Stefano. Anche egli assiduo commentatore delle reality sul social. Nella 35esima puntata del GF VIP Antonella ha fatto il pieno di nominazione ed è stata mandata al televoto per l'eliminazione che si chiuderà giovedì prossimo. Sull'eventualità che la schermitrice posso lasciare il programma, Gianluca le idee chiare. Il riferimento è quasi certamente alla famiglia dell'influencer salernitana, in particolare al padre. Con il quale da tempo intrattiene botta e risposta virtuali. Rivolgendosi alla famiglia Fiordelisi, il mental coach ha scritto. Benincasa ha anche replicato a chi si è chiesto come sia possibile che lui parli ancora di Antonella quando poco tempo fa la famiglia della 24enne ha presentato contro di lui un esposto. Perché non ne parlo? È tutta una ideologia di chi mi segue, spiegando la sua opinione sul comportamento di Stefano Fiordelisi. E ancora, sulla possibilità di entrare nella casa alla luce del divieto di avvicinamento avanzato a suo carico dalla famiglia di Antonella. Nel suo lungo sfogo, Gianluca ha espresso la sua anche sul comportamento della ex fidanzata che, come gli ha fatto notare un utente, non ha mai buttato MRD anni i suoi confronti. Sul sentimento che prova oggi verso Antonella, Gianluca ha tuonato. Il mental coach ha spiegato come ha superato le recenti vicende Crono coinvolto. Infine, ha ammesso di non voler porre fine alla guerra contro Antonella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.